Ieri pomeriggio scatta l'allarme a Vivo Valencia. Otto persone, ospiti di un bed and breakfast, vengono immediatamente evacuate perché si è aperta una voragine di fronte all'ingresso della struttura. Il proprietario dell'immobile già da alcuni giorni aveva denunciato lo sforfondamento di una mattonella del marciapiede, ma non avrebbe mai immaginato che la situazione fosse così grave. L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha evidenziato uno scalzamento dovuto con tutta probabilità all'erosione delle acque sotterranee, proprio come avvenne circa due anni e mezzo fa lungo la stessa direttrice in via Carlo Parisi. È noto infatti che esiste un antico canale di scolo che partendo dalla parte alta della città scende giù fino ad arrivare alle fiumare che raggiungono il mare. Il tutto sotto l'asfalto e i marciapiedi di via Militegnoto e via Parisi. Le due strade, che in tempi diversi, anche in un passato abbastanza remoto, hanno subito sprofondamenti e avvallamenti. Il comune da solo naturalmente non può farcela. Sono interventi per la messa in sicurezza del territorio che sono stati stimati intorno ai 30 milioni di euro se si vuole parlare di interventi preventivi. Sappiamo la fragilità da un punto di vista idrogeologico del territorio, però ripeto, solo il comune non ce la può fare. Siamo costretti, ob torto collo, ad intervenire nel momento in cui il problema si verifica. Sappiamo, ripeto, perché la storia lo insegna, che VIB è attraversata da questi canaloni, ma non siamo in grado, nelle condizioni, di poter intervenire come dovremmo forse, come un'amministrazione dovrebbe fare. Quindi qua siamo intervenuti rapidamente a seguito di uno sprofondamento di un tratto di marciapiedi. Abbiamo riscontrato che questo sprofondamento era dovuto ad una perdita idrica che di fatto accelerava un fenomeno di erosione e a diversi collegamenti provenienti da alcune abitazioni che scaricavano, a parere mio, in maniera del tutto anomala all'interno di questo canalone e che hanno contribuito a questo fenomeno di erosione. È stato evacuato un bed and breakfast, uno studio medico e anche un'abitazione privata. Quanto tempo pensate sia necessario perché la situazione torni alla normalità? La necessità di evacuare è nata soprattutto da una diffida che è arrivata da parte dei vigili del fuoco che a seguito di un sopralluogo hanno ritenuto opportuno procedere all'evacuazione dell'edificio. Di fatto non c'erano segni evidenti di fessure nell'edificio, né esterne né interne. Però si è ritenuto opportuno evacuare. I lavori non avranno una durata lunga. Spero che nel giro di massimo 4-5 giorni sarà tutto risolto.